Buongiorno a tutti, sono Elena Pulcini, sono qui con Dario Squilloni e noi adesso vorremmo fare qualche considerazione introduttiva in una prospettiva psicoanalitica e filosofica sul film che vedrete oggi, Il sale della terra di Wim Wenders. Quindi adesso do la parola a Dario Squilloni. Sì, dunque, il film di Wenders racconta la storia del fotografo brasiliano Sebastiano Salgado, che è la storia di una di quelle persone in cui il percorso di vita e il percorso professionale tendono a coincidere fortemente e la ricerca di sé e la ricerca del mondo è portata avanti principalmente attraverso l'impiego dello strumento e del talento artistico che contraddistingue queste persone nel caso di Salgado la fotografia. Come vedrete, Salgado comincia il percorso di esplorazione al di là delle montagne dove era nato, sconfinando fisicamente gli orizzonti geografici originari ma contemporaneamente allargando anche quelli esistenziali. Le sue foto fin dall'inizio infatti non documentano solo le specifiche tematiche di cui in quel momento si occupa, per esempio le condizioni di sfruttamento dei lavoratori del nord-est del Brasile, ma vanno ben oltre in realtà evocando ogni volta la condizione umana nel suo complesso. Ogni foto infatti è più, potremmo dire, un'icona che una riproduzione e un suo servizio fotografico non è mai solo un reportage, ma in realtà è un vero e proprio racconto, la narrazione del dramma esistenziale dei soggetti fotografati. O ancora meglio, è il suo racconto, il racconto di Salgado stesso, dal suo punto di vista sulla realtà, che sta sì fotografando, ma non solo riportando o, potremmo dire, fotocopiando. Questa realtà la sta invece proprio narrando, interpretando, come testimone è vero, ma come testimone è inesorabilmente coinvolto nell'evento e perciò scosso, scalfito e modificato lui stesso dall'evento. L'espansione dell'orizzonte geografico che ha portato Salgado in ogni parte del mondo, potremmo dire che perciò ha parallelamente ampliato la sua coscienza individuale, lo ha cambiato, lo ha reso più consapevole di sé e della realtà del mondo. Questo io credo che vedrete in questo film, che credo anche che la necessità e l'urgenza di prendere coscienza sia il motivo principale che ha spinto Salgado e Vanders a realizzare questo film. È suggestivo, ma altrettanto vero e reale, il fatto che la fotografia, la macchina fotografica, rappresentano uno dei principali simboli contemporanei della coscienza, della consapevolezza, della presa di coscienza, della capacità di prendere coscienza. Infatti quando nei sogni delle persone in analisi, per esempio, compaiono fotografie o macchine fotografiche, spesso ciò coincide con l'affermazione di un ampliamento della coscienza del sognatore. Infatti, se vogliamo, da un punto di vista metaforico, essere inconsci significa essere al buio, non poter vedere, non poter distinguere o fermare le immagini, immerse come sono nel buio dell'inconscio, finché non arrivi la luce della coscienza. E Salgado stesso, all'inizio del film, ci dice che il fotografo, l'etimologia della parola, Fotos Grafos, è colui che Grafos disegna e Fotos scrive con la luce. Da questo punto di vista, il viaggio che i suoi servizi fotografici raccontano è paragonabile a quello di un diogene, di un novello diogene che, armato di una piccola lanterna individuale, in questo caso la macchina fotografica, si spinge senza risparmio di sé fin nelle tenebre più profonde della condizione umana, portandone alla luce gli aspetti appunto più indicibili. Nel tentativo di renderli visibili alla coscienza collettiva è ineludibili alla coscienza collettiva che invece normalmente li censura, che non li vuole vedere. E Salgado è convinto che solo l'arte ha il potere di superare le barriere e la censura del diniego dell'io e per riuscire appunto a comunicare davvero l'indicibile. Ma non la realtà freddamente oggettivata dall'obiettivo, non l'immagine fotocopia della realtà, ma solo il racconto del mio impatto personale e soprattutto emotivo con la realtà, cioè il racconto di quanto quella realtà mi ha colpito nell'anima e non solo nella mente. Solo questo racconto ha il potere di comunicare ed evocare una coscienza vera e profonda, cioè una coscienza esposta, una coscienza incapace di rimuovere da sé, come sempre, la gravità dell'evento, appunto come sempre accade. Automaticamente, istintivamente, noi rimuoviamo la gravità dell'evento. E nella prima parte del film, la prima terribile parte del film, Salgado compie il suo viaggio di esplorazione sempre più in fondo, lo conduce sempre più in basso, fino agli inferi delle immagini desolanti delle popolazioni dell'Etiopia, del Mali e del Sahel e addirittura nell'abisso senza speranza degli orrori del Kuwait, del Rwanda e dell'ex Jugoslavia. Infine l'anima di Salgado è dolorosamente ammalata, proprio da questa presa di coscienza, che il diniego e la rimozione sono i meccanismi più che pericolosi a fronte di una situazione mondiale in cui la capacità distruttiva e autodistruttiva dell'uomo, la follia dell'uomo, ha raggiunto il punto estremo di non ritorno. Durante i suoi servizi ha dovuto dolorosamente rendersi conto che questa coscienza e questa realtà veniva costantemente denegata. Perché questo è ciò che tutti noi facciamo automaticamente, sistematicamente. Rimuoviamo il male, prima di tutto il male che facciamo noi stessi. Anche noi oggi, noi qui, in questo momento, ridotti per via del Covid a comunicare con un video quello che avremmo potuto dirci di persona, guardandoci negli occhi, interagendo, entrando in relazione, rispondendo a domande, conversando. Perché non è mai colpa nostra, infatti. Infatti è colpa dei cinesi, ma il fatto è che i cinesi sono proprio come noi, i cinesi siamo noi. Siamo tutti uniti all'unisono in questo interesse del profitto, in questa fissazione della follia acquisitiva che spinge l'umano a comportamenti folli e autodistruttivi, come i cercatori d'oro e la sierra pelada ripresi da Salgado, che vedrete all'inizio del film. Di questa follia contemporanea Salgado infine prende coscienza, dolorosa coscienza, profondamente desolato. Per fortuna non anichilito, Salgado reagisce e proprio questa consapevolezza probabilmente lo spinge alla collaborazione con Wenders. Anche lui, nato documentarista, è dotato evidentemente di una stessa sensibilità. Una collaborazione che nasce dalla necessità quindi di fornire a una collettività cieca una rinnovata e amplificata occasione di presa di coscienza. Un film documentario su un documentario fotografico, un urlo su di un urlo, luce su luce, coscienza su coscienza. Un rinforzo e un rilancio che non è solo una denuncia del male. Ecco, questo è importante, ma come vedrete Elena Pulcini vi anticiperà, è anche però la visione di una rinascita e di una possibile salvezza. Bene, allora purtroppo abbiamo poco tempo, quindi io farò solo qualche breve riflessione su un aspetto, se volete appunto più filosofico in particolare, centrato diciamo sul tema ecologico, perché il film è anche un grande affresco ecologico. È un omaggio al pianeta, che a distanza di pochi anni tra l'altro appare ancora più intenso e importante, dato il precipitare oggi della crisi ecologica. Pensiamo a fenomeni che ormai conosciamo sempre di più, dal global warming, l'erosione delle nostre risorse, la perdita della biodiversità, l'inquinamento. Dunque l'occasione per, tornando al film, l'occasione per Salgado nasce nel momento in cui, tornando in Brasile, trova la terra, diciamo, quella della fattoria paterna desertificata, molto rovinata, e avvia insieme alla moglie un processo di rigenerazione della foresta pluviale. Nel frattempo dà inizio anche al progetto fotografico Genesis, che è uno dei suoi più belli e interessanti, e viene annunciato questo progetto da una frase particolarmente significativa. Dice Salgado, era il mio primo reportage sulla natura, la prima volta che ho fotografato altri animali, per otto anni ho osservato e ho capito che io sono parte della natura, come una tartaruga, un albero, un sassolino. Allora, siamo parte della natura, il progetto è, mi pare venga usata anche questa espressione, una lettera d'amore al pianeta, perché appunto è questo amore che può contrastarne il degrado, rompendo in primo luogo quello che è il nostro, diciamo, secolare, antropocentrismo, perché è il nostro antropocentrismo appunto, la nostra avidità, la nostra sete di profitto e di dominio su tutto ciò, diciamo, che è il vivente, no? Giustificata oggi dalla tirannia di un capitalismo predatorio e di una ideologia neoliberale che riduce tutto all'economico, due, diciamo, dimensioni, cause che hanno prodotto danni che sono forse ormai irreparabili. Dunque, bisogna invertire la rotta, no? Per citare anche un po' alcuni filosofi, in questo caso Bruno Latour ci invita, no? A tracciare una nuova rotta e questo vuol dire sentirsi parte della natura, vuol dire amarla, vuol dire stabilire un'alleanza con il mondo vivente a partire appunto dalla consapevolezza che ne siamo parte, o meglio, una parte, insieme ad altri esseri e ad altre specie. Come dice in un libro recente dallo strano titolo di Cthulhu Cene, Donna Haraway, la filosofa Donna Haraway, dobbiamo creare nuove parentele, le chiama kin, alleanze, tra l'umano e il non umano, per restituire alla terra la sua capacità regenerativa, rigenerativa, che appare sempre più compromessa. Ed è proprio la fiducia nella rigenerazione della terra che ispira il film di Benders, laddove ci mostra la realizzazione del progetto appunto di rinascita, no? In cui un'immensa area del Brasile torna a vivere grazie all'attenzione e alla cura che Salgado e sua moglie le dedicano. Perché la risposta a questa, diciamo, inquietante crisi ecologica è la cura, intesa come pratica quotidiana, ma come pratica quotidiana ed empatica, come attenzione all'alterità in tutte le sue forme, non soltanto verso il prossimo, che è l'altro grande tema del film, ma appunto verso la natura, come impegno responsabile. Il progetto di Salgado è un esempio straordinario di ciò che possiamo ancora realizzare, nonostante tutto, per salvare il pianeta, nonostante appunto la nostra fiducia sia messa a dura prova da scenari sempre più devastanti. Anche se l'Osservatorio Mondiale sul clima ci ha dato pochi anni per cambiare le cose, siamo forse ancora in tempo, ma come ci esorta a fare il filosofo Peter Sloterdijk per far, perché questo accada, perché diciamo appunto le cose cambino, dobbiamo cambiare la nostra vita, cogliendo anche occasioni dure, come la terribile pandemia che ci tiene in scacco da mesi, la quale ci costringe all'esperienza della vulnerabilità e ci ricorda che siamo tutti interconnessi, tutti insieme sulla stessa barca, dobbiamo imparare dall'esperienza della vulnerabilità. Dunque per finire torniamo appunto alla frase diciamo iniziale, alla frase che spiega il titolo poi del film, quando Wenders dice una cosa, l'avevo già capita di questo Sebastiao Salgado, gli importava davvero degli esseri umani e questo significava molto per me, dopo tutto gli esseri umani sono il sale della terra. Allora, questo vuol dire che l'umanità è il sale della terra? Ma non è vero che siamo anche, come appunto ho cercato un po' di dire, che siamo anche i suoi dominatori e i suoi distruttori? Indubbiamente, no? Questo il film ce lo mostra molto bene, ma possiamo scegliere, noi possiamo scegliere, questa è la grande chance degli esseri umani e forse lo diventiamo il sale della terra, quando ci assumiamo responsabilmente il compito di prendercene cura. Allora, buona visione. Buona visione. E arrivederci. Arrivederci.